Hey guys, bentornati nel canale di Chiari Ladyboss. Come va, come va, come va? Avete novità per me? Il benvenuto a tutti i nuovi iscritti, grazie per essere sul canale di Chiari Ladyboss. Oggi inizia una nuova serie ed è una serie dedicata a interviste agli americani. Scopriremo cosa gli americani pensano degli italiani, della moda, dei paesaggi, del cibo, delle persone e tanto altro. Per la prima puntata di questa nuova serie ho deciso di iniziare con il cibo, prenderò a campione 10 americani e chiederò loro cosa pensano del cibo italiano. Venite con me! Io mi piace il cibo parmigiano. Ok, quindi come italiani e americani? Si. Ok, da dove sono? Indiana. Indiana, quindi sono da Indiana. Grazie mille, buona giornata! Arriva il tipo di lupias. Ciao! Sei americani? No? Sei americani? Urbano. 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 Ma mi chiamati americani. Posso te una domanda per il mio blog? Posso te una domanda per il mio blog? Posso te una domanda per il mio blog? Si! Tu disse sì! Voglio sapere cosa pensi del cibo italiano. Mi piace il cibo italiano. Che ti piace il cibo? Sausage. Sausage? Sausage, spaghetti, pasta. Cosa? Cosa? Sono pasta, mi piace pasta. Ok, bravo. Grazie. Qual è il nome? Maurizio. Grazie, Maurizio. Buongiorno. Sei americani? Posso te una domanda per il mio blog? Come? Cosa pensi del cibo italiano? Calabria. Abbiamo trovato un italo-americano. Ciro Marina. Ciro Marina. Sì. Ok. 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 Opiamo a metà in Italia. Poi so sono roma mi a vedi zodiaci. In come questo? Ho so Weeki con uno. Io sono senti di tantoерхuaggio. E penso che sia utile. Che sia meglio, Qual è meglio? Il quale nordicainde è di tipo. Comune una interessa interessa? No, perché una parma che viene del Cibo italiano? Così tantano credere che il cibo è forto di italiano. Ma non. Qual è così? Seiography in italiana o amicacolo. Si, come nelle buotee con lo ucc Douane in America. e poi si è spesso. Sicilia ha molto di ciò che mangiamo qui. Ci sono molti Sicili che venivano qui. E la pasta che d'uggo viene da loro. Ci sono persone di Calabria, Campania e Puglia. Ci hanno portato molto di loro. Sì. E hai un piaccio preferito? Pagliare? 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 Pagliare perché ti piace il proprio italiano. Pagliare in frighteningi qui? Una cosa di più o quella di noi? Da c'era una company. Pagliare il 24th ed la normazione. E' il mio meglio. Qui è scoresato? Perché? Ma non? il bianco che è il bianco, che è stato un buon bianco, è benvenuto è solo un posto di 47th Street e questo posto su 9th Avenue e 24th è ancora servito di pizza sulle settimane o settimane e fratelli per qualche motivo lo stesso il pizza è stato il meglio in la città spero di aver provato, ma non ho devi andare in là al momento certo Si, ho preso il nostro canale e poi reopendato. Do you know il nome? Credo che si chiamava il compagno. Non mi ricordo il suo nome. Io ho provato a cercare. Abbiamo un nuovo posto italiano su 50. Ci sono tantissimi nuovi. Pizzi o qualcosa. È da Italia. Oh, Princi. Princi. È da Milano. Si, ho visto in là molto. Abbiamo buona cosa. Si, è buono. Si, è nato e cresci in New York? No, in Cleveland, Ohio. Sono una persona medio-vistosa. È così difficile trovare a New York. New York sono da New York. Ma io considero myself di New York. Non sono nascita qui. Ma sai, è molto diverso. L'ora, c'era una grande comunità italiana. Ma l'Italia è praticamente nascita. Si, è completamente nascita. Tutti i Cinesi e gli italiani sono sono eserciati. Perché tutti gli italiani sono stato educati e sono riuscita a Gostov. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ovviamente è stato da Italia in Brunz. Oh, sì. È un po' meglio che il città. È tutto bene. Vuoi dire che Arthor Ave? Arthor Ave. Sì, ma non sono qui da anni. Sì. Allora, qual'è il tuo nome? Vincenzo Romeo. Vincenzo Romeo, italianissimo! Grazie, grazie, salutiamo Vincenzo Romeo! Italia, mi piace Italia! Grazie! Do you like pizza? Do you like pizza? I eat pizza. I don't eat meat though. Red meat I eat. I like chicken dish or fish dish. But if I had to give my favorite, that clam sauce is wrong. Where are you from? New York. A New Yorker? From New York? Oh my god, give me five! What's your name? Darlene. Darlene, thank you so much. Good luck, good luck. Thank you. Forse loro, forse loro. Riprendo. Hi! Are you American? No. No, ok. Thank you. Hi, are you American? Ok. Stanno passando tutti o sono di fretta o sembrano turisti o si girano dall'altra parte per non farsi riprendere. Hi, are you American? Can I ask you one question about Italian food? Hi, are you American? Canadian, are you taking photos too? No, Italian food. I'm talking about Italian food. But for Americans. Hey, we just finished having gelato. Is that a giant? I know, that's good. I love those. She's Canadian. I'm Canadian. So I can't really ask you the question, but thank you. Oh, ask away. I'll be happy. So basically this is a vlog about what American think about Italian food. Oh, ok. But if you want to tell us. My husband's Italian. She's from Canada. 100%? Born and raised? Born and raised. Ok. Where in Canada are you from? I'm from Hamilton, Ontario. Lancaster. I have family in Windsor. Oh, ok. I go there every year? Every two years? Ok. So you eat a lot of Italian food? Yes. Do you have a favorite? Yes. What is it? Lasagna. It's awesome. I love lasagna. Can you cook Italian food? I do with my mother-in-law's help. From scratch, we need lasagna. Where are they from? She's from Campo Basso. Campo Basso, ok. So, like, center-south. Ok. Very nice of you. What's her name? Nancy. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Vabbè, lei era canadese, però voleva partecipare. Era molto contenta. Anzi, quando ha finito ha detto, Oh my God, that was awesome! E quindi l'ho dovuta intervistare. Lei con il marito italiano e la sua cera italiana che le fa le lasagne in casa. Mua! Arriva nei pompieri. Are you American? Mm-hmm. Can I ask you one question for my vlog? Ok. I am talking about what American people think about Italian food. Ooh, yummy! Is that a hard question? No, it's easy. Easy? Where are you guys from? Kentucky. Kentucky. Yes. Do you have a lot of Italian food? Um... Which part of Kentucky? Probably not authentic, but... Lexington. Ok. Yeah. I've never been. So, yeah. So, do you have a treat? Ok. So, we ate at... Billy G's here. Joe G's. Joe G's. Joe G's. Italian restaurant here. Ok. Awesome. Thank you so much. Have a good one. Are you guys American? Yes. Can I ask you one question for my vlog? Just... What do you think about Italian food? Oh, it's great. Can you tell me more? Italian food is great. It's savory. What do you like about it? It's tasty. It's comfort food. What... Which one do you like? Do you like pasta? Do you like meat? Do you like pizza? I like bread. Okay. Bread. Are you from here? No. Okay. Thank you. Sympatica. Okay. Hi. Are you ladies American? Yes. Can I ask you one question for my vlog about Italian food? Sure. Sure. What do you think about Italian food? It's my favorite. Really? Absolutely. Why? Because I'm Italian. You are? Born and raised? No? I'm raised here. What do you like about it? Do you like... Because there's a lot of bread, carbs... Do you think it's authentic in New York, in America? It's more authentic in New York than where we live. Where are you from? Pennsylvania. Okay. Do you think Italian food is better in New York? Than Pennsylvania, but it's best in Italy. Okay. So you've been? Yes. Okay. Thank you so much. You're welcome. Have a good one. Are you guys American? Can I ask you one question about Italian food? No. I don't know anything about Italian food. Hi guys. Are you American? Can I ask you one question about food? Yes. No. Hi. Can I ask you something? Uh... Not American. Sure. Hi ladies. Are you American? Yes. Can I ask you one question about food? Yeah. What do you think about Italian food? It's amazing. Amazing. Yeah? Yeah. Amazing. Like what do you like about it? Everything. Everything. Yeah. It's just so much love. Yeah. You like pizza, pasta, meat? Yeah. Big salad. Yeah. Are you from New York? I'm from California. Cali? Yeah. New York? So you think Italian food is authentic here? I mean... No. No. It depends what area you're in. I want to say. Not in Manhattan, but it depends what area you're in. Okay. Like certain areas where it's predominantly Italian. Okay. That's where you can find like really great Italian food. Okay. We're not talking about the cheesecake. No. 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 That's not Italian. Thank you. Awesome. Thank you so much. You're welcome. Have a good one. Guys, are you American? We don't have time. Okay. Sure. That's it. They don't have time. They said yes. Okay. So I'm asking American people what they think about Italian food. I mean... I love pasta. You love pasta? Yeah, pasta is good. But I don't know the true cuisine. Like... Have you ever been to Italy? No. Do you think Italian food is authentic? Here? Yeah. I think it's... I don't know. I think it's Americanized. Americanized? Yeah, you know. Where are you from? I'm from New York. Which part? Oh, um... Manhattan? I don't know. I guess Manhattan and the Bronx. I don't know. Have you been to Arthur Avenue? Yeah. Yeah? What do you think about that Italian food? I've never had Italian food in there. I only had Albanian food in there. Oh, okay. Yeah. Okay. But like... Do you like more... Bread, pizza, salad... I like more pasta. Like I like... Um... What is it called with the white sauce? Alfredo? Alfredo. Oh, Alfredo. Have you ever heard of Maestro Pasta? It's a new spot in downtown. Maestro? Yeah. Is it like olive garden? Oh my God! No, it's like a chipotle for pasta. You should check it out. You make your own dish. It's just like olive garden! Thank you! Allora, un paio di conclusioni. È chiaro che non ci sia una buona conoscenza del cibo italiano nella media. La maggior parte degli americani non sa esattamente cosa sia il cibo italiano. Infatti parla di cibo italo-americano o addirittura americanizzato. Come avete sentito da alcuni di loro. E io sono completamente d'accordo. Anche perché ho visto che non c'è un approfondimento verso la cucina italiana. Molti non hanno la possibilità di viaggiare in Italia. Molti non hanno ancora avuto l'opportunità. Magari lo faranno. Scopriranno così che non esistono fettucine al freddo. Non esistono tanti prodotti che qua vengono venduti come prodotti italiani. Speriamo che non verranno delusi da ciò. Aggiungo una nota. E vi dico che non è stato facilissimo fermare le persone. Perché molte erano al telefono di fretta. Molte non erano interessate. Molti erano turisti. Quindi non americani. E alcune addirittura non sapevano proprio cosa dire della cucina italiana. Spero comunque che questo nuovo format di video e di interviste... Ecco il caretto dei gelati. Ciao! Vi piaccia? Ovviamente aspetto un like se vi siete goduti il video. E anche un commento qua sotto su cosa ne pensate. Di come venga percepito il cibo italiano all'estero. Magari in America o in altri posti. Grazie come sempre per essere stati con me. Per oggi è tutto da Chiari Ladyboss a New York. Bye guys! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!